Buon salve, buon salve. Juventus-Milan finito ai rigori. Io maggiormente l'ho registrata perché non avevo voglia di alzarmi ai quattro e mezza per vedere la partita. Perciò, comunque, più o meno, sì, qualche miglioramento. Qualche miglioramento, niente di più. Uea, veloce, un giocatore che può dare all'Iventus. Veloce, rapido. Va bene, dopo, tralasciando Milik, che non ha neanche toccato palla. Un cross, un colpo di testa, un autogol di un giocatore del Milan. Non mi ricordo, va bene. Va bene. Comunque, tralasciando là i dettagli, non stiamo lì a vedere tutti i dettagli dinamichevole che non serve. Tanto non ci aspettiamo grandi risultati nelle prime partite. Adesso, adesso aspettiamo la prossima partita contro, contro, va bene, mi ricordo, mi ricordo. Sarà a prima mattina solo in cui io ne ho. Real Madrid, bene, Real Madrid. A che ora? A che ora? A un voto e mezzo, a l'una e mezza, che la registro. Comunque, per il resto, avete visto la pinichella di Allegri? Mi pare un Carlo Conti, mi pare un Carlo Conti, mi pare un Carlo Conti genicatamente modificato. Comunque, tralasciando le cazzate, un po' buona la prima, niente di più, non stiamo ad allegrarci perché abbiamo vinto ai rigori. 6-5, comunque, bella uscita. Anche se abbiamo perso tanti palloni, non siamo capaci a intercettare, a anticipare gli avversari. Per il resto, facciamo tanta confusione, c'è ancora tanta confusione, passaggi non giusti. Molto bene le verticalizzazioni, dalla parte all'altra del campo, quando si passano la palla. Per il resto, per il resto, Ken gioca a vuoto, corre tanto, però va bene. Però, dai. Per il resto, va bene. Non stiamo lì a dare un voto alla partita, non ci interessa. Noi aspettiamo le partite ufficiali all'inizio del campionato e vediamo come verrà innescata il percorso di Allegri di questa stagione. Di merda, ma comunque, lasciamo perdere. Diciamo, buona la prima, buona la prima, però, però, diciamo, ha fatto un po' di più il Milan. Va bene, ragazzi, dai. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace e andiamo avanti. Insieme a forza a Juve, però, con Allegri, no. Con Allegri, no, ma, ovviamente, bisogna che ce lo teniamo, ce lo teniamo, ce lo teniamo, ce lo teniamo. E va a fan cuore. A me? A posto. Ciao ragazzi, alla prossima per Juventus-Real Madrid, perché contro il Barcellona, influenza intestinale e saltata, ovviamente. Ciao ragazzi, bene, perfetto. Ciao ragazzi.